Adriana Volpe, la vita dopo il crack matrimoniale e la resa dell'ex marito La rinascita della conduttrice trentina, i problemi matrimoniali e gli stop carrieristici sono acqua passata Adriana Volpe è tornata a sorridere dopo il momento difficile relativo al crack matrimoniale con Roberto Parli La fine della relazione, piuttosto tumultuosa, si è consumata dopo la sua partecipazione al grande fratello Vip4 che Ha segnato uno spartiacque nella carriera della conduttrice trentina Si tuffò a capofitto nel reality show dopo essere stata lasciata a casa dalla Rai, in cui ebbe dei pesantissimi scontri con Giancarlo Magalli La vicenda è finita a carte bollate in tribunale. Oggi le burrasche sentimentali e lavorative sono acqua passata La Volpe ha saputo reinventarsi e così è tornata ad essere serena come non succedeva da tempo Al momento Adriana è single. Da quando il suo matrimonio è giunto su un binario morto si è concentrata anima e corpo sul lavoro e sulle amicizie Oltre che naturalmente su Giselle, sua figlia All'orizzonte non si vede, per il momento, nessun lui, ma va bene così In questi giorni la conduttrice sta trascorrendo dei giorni spensierati a Sharm el Sheikh, in compagnia di un suo carissimo amico Vip, Giovanni Ciacci Con lei c'è la piccola Giselle ed è tutto un tripudio di amore materno Anche sul versante lavorativo le soddisfazioni non sono mancate, dopo il GF Vip 4 ha preso il timone di ogni mattina, TV8 Il talk ha avuto ascolti non entusiasmanti e infatti non è stato rinnovato, è però servito alla Volpe per inserirsi nuovamente nel giro che conta televisivo E infatti, conclusa l'esperienza sul canale in chiaro di Sky, è arrivata la chiamata di Alfonso Signorini che l'ha voluta come opinionista del GF Vip 6 Ruolo ricoperto con puntualità e acuna. Pare scontato che sarà riconfermata nella prossima edizione del reality, in forse invece Sonia Brugannelli Adriana Volpe e il silenzio di Roberto Parli Il suo ex marito Roberto Parli, invece, è letteralmente sparito dai radar social e dai media Trincerandosi nel silenzio dopo aver avuto atteggiamenti alquanto opinabili nei confronti dell'ex moglie Arrivò persino ad accusarla di aver frequentato un uomo svestito innanzi a sua figlia Giselle. Accuse che furono poi ritirate con tanto di dovute scuse Ha bisogno di essere aiutato, aveva dichiarato sconfortata la volpe che ha poi risolto la vicenda privatamente in modo saggio A oggi Parli sembra che si sia arreso, come dire che si sia messo il cuore in pace. La sua strada e quella di Adriana non possono più collimare E la vita continua anche senza di noi, giusto per citare Vasco Rossi